Sono entrati qui. E non sono più usciti. Vai avanti. Porca troia. Sono parecchi. Price, gas, fare, la base, sovietic program. Andando avanti perderemo il contatto. Vediamo dove ci portano. C'è una sola bombola. Restiamo uniti. Nemici in arrivo! Che cazzo è questo posto? Che cazzo è? Grazie per la visione!